Per Tosa ha avviato il progetto Piano Colore per migliorare l'aspetto del centro storico Nell'ambito del progetto ha previsto anche il piano albergo diffuso Sassano, l'onorevole Mara Carfagna a Silla per inaugurare la sede di Forza Italia Questa mattina a Salerno ha parlato di Europa e giovani Per Tosa, domenica 1 marzo la selezione del casting per il musical Cave of Spirits Realizzato all'interno delle grotte di Per Tosa a Uletta Calcio, Massimo Manzolillo della sezione arbitrale di Sala Consilina Ha designato assistente per la gara di Lega Pro l'Aquila Teramo Attesissimo derby d'Abruzzo Sport, gli appuntamenti del fine settimana per le squadre di calcio valdianesi Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento serale di Uno News Ieri pomeriggio il sindaco di Rofrano, Nicola Cammarano, è stato rimesso in libertà Per il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania non vi è pericolo di fuga e di inguinamento delle prove Valeria Campanile, GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, dopo aver convalidato l'arresto Ha deciso di rimettere in libertà il sindaco di Rofrano, Nicola Cammarano Accusato di detenzione di materiale pedopornografico In seguito ad un normale controllo fiscale nel suo studio commercialista I militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, guidati dal tenente Giovanni Statello Avevano scoperto del materiale pedopornografico nel computer del sindaco Dopo la convalida dell'arresto, Nicola Cammarano è stato rimesso in libertà ieri pomeriggio Perché secondo il GIP non esistono pericoli di fuga e di inquinamento delle prove Attualmente gli inquirenti, sotto la direzione del sostituto procuratore Ivan Aniglio E del procuratore Giancarlo Grippo Stanno analizzando tutti i file presenti nell'hard disk del PC del sindaco di Rofrano Per eventualmente riuscire ad identificare le vittime degli abusi Nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, Nicola Cammarano si è avvalso della facoltà di non rispondere Il suo avvocato, Vincenzo Speranza, ha tenuto a precisare che la vicenda riguarda la sfera personale del primo cittadino E nulla ha a che fare con la sua attività professionale e istituzionale Le indagini delle fiamme gialle hanno portato ad effettuare un controllo anche sul computer presente nel suo ufficio in comune Che secondo le indiscrezioni non presenta alcuna irregolarità per il momento Intanto, all'uscita dal carcere di Vallo della Lucania, Nicola Cammarano si è detto provato Ma pronto a fare chiarezza sulla vicenda In centinaia hanno accolto il primo cittadino al suo rientro in paese E con uno striscione che riportava la scritta Io sto con Nicola I cittadini hanno palesato da che parte sono e hanno voluto manifestare la propria vicinanza al sindaco Nell'ambito di appositi controlli messi in atto dai militari della compagnia di Sala Consilina Al comando del capitano Emanuele Corda e tese a riprimere l'uso di sostanze stupefacente Nella serata di ieri a Polla hanno segnalato alla prefettura di Salerno Un giovane che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana Inoltre è stata sequestrata l'auto in uso in quanto priva di copertura assicurativa Lasciamo la cronaca e passiamo alla politica Questo pomeriggio l'onorevole Mara Carfagna è arrivata a Sassano accompagnata dal coordinatore territoriale Valentino Di Brizzi Per incontrare militanti e simpatizzanti del partito di Forza Italia E discutere con loro dei progetti della programmazione per il territorio Al suo arrivo in località Silla di Sassano ha presenziato anche all'inaugurazione della sede del partito E ha salutato i giovani attivisti di Forza Italia congratulandosi con loro per il lavoro Svolto nella realizzazione della sede, oltre che per l'impegno profuso sul territorio Successivamente si è spostata al ristorante New King per un incontro politico Ad accompagnare l'onorevole Carfagna, coordinatore provinciale di Forza Italia Anche il senatore Franco Cardiello, membro della seconda commissione permanente giustizia E il senatore Enzo Fasano, vice coordinatore vicario di Forza Italia a Salerno L'onorevole Carfagna si è intrattenuta ed ha salutato tutti i militanti del partito Ed in particolare il coordinatore del Vallo di Diano Valentino Di Brizzi Ringraziando loro per l'impegno profuso nel portare avanti le idee sostenute e difese da Forza Italia Ed ha anche assicurato la sua vicinanza al territorio Sull'incontro di questa sera a Silla di Sassano con l'onorevole Mara Carfagna Avremo modo di tornare ampiamente lunedì prossimo nel corso delle nostre edizioni di Uno News Intanto ci occupiamo dell'incontro svoltosi a Salerno presso il nuovo hotel Salerno Organizzato da Antonio Roscia, coordinatore cittadino di Forza Italia a Salerno Nel corso del quale era presente anche l'onorevole Carfagna per discutere del tema l'Europa dei giovani Vediamo Onorevole Mara Carfagna si parla dell'Europa dei giovani ma resta ferma l'attenzione Sì, oggi si parla dell'Europa, si parla delle politiche economiche di questo governo, si parla di politica e quindi anche delle prossime elezioni Ma è un'occasione particolare quella di oggi che mi riempie di orgoglio perché presentiamo il nuovo club Azzurra Libertà di Salerno guidato da un giovane, Gerardo Tafuri, che ha 19 anni, una delle più giovani leve del nostro partito Una delle migliori risorse ed energie che stiamo mettendo in campo grazie anche al lavoro straordinario che sta facendo Antonio Roscia nel costruire un coordinamento cittadino aperto al contributo di tutti e aperto soprattutto al contributo dell'entusiasmo di giovani che si avvicinano alla politica per la prima volta Credo che questo club avrà molto da fare, avrà un compito importante, quello di reclutare nuove leve per riscoprire quello spirito del 94 che ci ha permesso di affrontare con successo tante sfide e anche il compito di riallacciare quel dialogo che si è interrotto tra partiti, classe politica e cittadinanza, popolazione e società civile Quello che si sta facendo proprio in queste ore, in prossimità delle elezioni regionali della Campania, c'è grande attenzione per quel che farà l'Udc? Sì, ieri sicuramente è successo qualcosa di importante, Giuseppe De Mita ha confermato l'appoggio e il sostegno al governatore Stefano Caldoro Credo che sia un segnale che vada nella direzione della coerenza, quindi nella giusta direzione perché Caldoro ha governato in questi cinque anni, ha governato bene in questi cinque anni grazie sicuramente alle sue capacità amministrative ma grazie anche ad una coalizione forte che lo ha sostenuto all'interno della quale l'Udc e area popolare in genere ha giocato un ruolo importante quindi accogliamo con favore le dichiarazioni di ieri Completamente da escludere quindi la possibilità che l'Udc possa allearsi invece con il Partito Democratico? Ci piacerebbe escludere questa possibilità, ci piacerebbe che gli amici dell'Udc escludessero questa possibilità sarebbe una scelta difficile da comprendere ripeto, quello che si è fatto in questi cinque anni lo si è fatto grazie ad una squadra formata da donne e da uomini appartenenti a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, all'NCD, all'Udc, al nuovo PSI e sarebbe poco comprensibile che questi partiti oggi si dividessero e che addirittura uno di questi partiti sostenesse un programma politico alternativo che è quello del centro-sinistra L'amministrazione comunale di Pertosa guidata dal sindaco Michele Caggiano ha avviato da diversi mesi un importante progetto di valorizzazione e miglioramento del centro storico grazie ai fondi europei è stato avviato il progetto Piano Colore che prevede la realizzazione di lavori di tinteggiatura delle facciate delle case con diversi colori e tutti diversificati sulla realizzazione dei lavori e sulle prospettive economiche derivanti ne abbiamo parlato con il sindaco di Pertosa Michele Caggiano che spiega anche il progetto di albergo diffuso, ascoltiamolo Praticamente è la ristrutturazione del centro storico di gran parte del centro storico tutte le case in pietra sono stati rifatti gli infissi e tutte le facciate quindi recuperati gli intonaci e le facciate abbiamo applicato il cosiddetto Piano Colore che era semplicemente solo approvato ma di fatto non si concretizzava mai perché ovviamente con i soldi dei privati le case erano poi tutte bianche o sbiadite le abbiamo recuperate abbiamo recuperato la piazza il Borgo dell'Angelo e tutta via Sarno ovviamente in questo progetto fondi europei c'era anche la copartecipazione dei privati e quindi si è operato su alcune strutture con privati quindi ci saranno due bed and breakfast un laboratorio di ceramiche e quindi il progetto si chiama appunto albergo diffuso ospitalità diffusa proprio perché c'è la possibilità all'interno del centro storico di mettere su con un contributo dei privati il contributo dei privati era 35% sul progetto complessivo mentre per quanto riguarda le facciate l'intero contributo diciamo è stato a carico dei fondi europei riqualifichiamo la fontana ancora della piazza riqualifichiamo tutta la parte che riguarda questa mostra che si chiama un muro diventa cultura sempre nella piazza De Marco per noi e per diciamo il paese è una cosa importante anche perché questo ha dato anche un poco di respiro in questi mesi si lavorerà ancora per qualche mese si sta lavorando da 3 o 4 mesi anche alla mano d'opera locale sono stati impiegati tante persone in questo tipo di lavoro e quindi tante famiglie che hanno potuto vedere un po' di respiro anche le piccole attività di contorni i bar piuttosto che le attività diciamo le piccole attività che ci sono stanno avendo dei piccoli benefici questo per noi è importante perché ripeto non solo qualifica il centro storico o comunque una parte consistente del centro storico riqualifica diciamo così case o situazioni e mette in sicurezza perché in alcuni casi nel centro storico abbiamo messo in sicurezza delle case che ancora purtroppo ricordavano il cosiddetto sisma dell'80 questo secondo noi è importante perché completa un'idea un progetto che avevamo per il nostro territorio appunto che era quella della riqualificazione del centro storico che si inserisce in quel discorso di proposta aggiuntiva di valore aggiunto che è la proposta turistica del nostro territorio che non è appunto non solo Grotte ma anche la visita al Borgo questa mattina a Polla presso la libreria Ex Libris Cafè la conferenza stampa indetta dal Comitato Non Petrolio nel Vallo di Diano in collaborazione con altre associazioni del territorio quali le formiche operaie outdoor cilento e alta quota trekking nel corso della conferenza stampa si è parlato delle ultime novità in merito alla questione relativa alle estrazioni petrolifere nel nostro territorio ed è stato annunciato il ricorso della regione Campania alla corte costituzionale sul decreto sblocca Italia inoltre si è tornato sul tema dell'agricoltura come fonte di sviluppo argomento che però non ha trovato tutti d'accordo con una voce fuori dal coro che è invece evidenziato come con l'agricoltura è difficile ottenere economia a Polla per noi c'era Pietro Cusati che ha rintervistato il conte Ettore Mele Barese proprio sul tema dell'agricoltura e della redditività della stessa gli organizzatori hanno annunciato nel corso della conferenza stamba di non rilasciare interviste vediamo il servizio si è concluso da qualche minuto la conferenza stamba del comitato no petrolio presso la libreria di Michele Gentili ex libris di Polla gli organizzatori non hanno voluto rilasciare interviste qual è stato il succo di questa conferenza c'è stata questa legge sblocchitaria che è stata approvata e alcune regioni tra cui la Campania ha ricorso alla corte costituzionale ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata che il comune di Polla ha dato una sorta di autorizzazione a una ditta che ha chiesto un permesso si parlava di agricoltura sei intervenuto nella conferenza allora io sono un anti-signano dell'agricoltura in effetti avendo una delle più grosse estensioni terriere qui nel Vallo di Diano però quando mi si fa una domanda che utile porta che ricaduta occupazionale c'è quali soddisfazioni ci sono io dico è tutto tutto negativo tutto negativo tant'è che io riesco a sopravvivere grazie ed esclusivamente a una struttura agrituristica che dà quella redditività necessaria per poter campare riportandomi al discorso iniziale qui nel Vallo di Diano quali prospettive quali legate alla situazione petrolio riguarda la faccenda innovazioni diciamo così beh io tengo a dire che il petrolio si dà dei pro e dà dei contro dà dei contro dobbiamo valutare bene non non si può dire a prescindere no allora i pro sono che ovviamente entra entra un po' di liquidità nelle casse certo nelle casse delle multinazionali è vero però qualche cosa rimane pure al territorio al territorio e il no è la faccenda che che ci sono inquinamenti dal 1 marzo fino al 30 novembre 2015 saranno attivati in 19 comuni del Vallo di Diano e del Tanagro diversi servizi assistenziali a domicilio per poter partecipare al progetto bisogna presentare apposite istanze in modalità telematica entro le ore 12 del 31 marzo prossimo tutti i dettagli nel prossimo servizio nell'ambito del progetto Home Care Premium 2014 a partire dal 1 marzo fino al 30 novembre 2015 saranno attivati in 19 comuni del Vallo di Diano e del Tanagro diversi servizi assistenziali a beneficio dei dipendenti pubblici e pensionati dell'Inps ex gestione ImpDapt e dei loro coniugi conviventi dei loro familiari di primo grado non autosufficienti il progetto ha lo scopo di aiutare la persona non autosufficiente e la sua famiglia nell'affrontare sostenere e gestire le difficoltà connesse allo status di non autosufficienza propria o dei propri familiari attraverso interventi diretti assistenziali in denaro o in servizi due le tipologie di prestazioni la prima consiste in un contributo economico erogato in favore del beneficiario che va da un minimo di 200 a un massimo di 1200 euro la seconda consiste in prestazioni integrative consistenti in servizi erogati dal piano sociale di zona a supporto del percorso assistenziale del beneficiario mediante servizi professionali domiciliari ed extra domiciliari nonché supporti e servizi assistenziali ed accessori che variano da un minimo di 450 euro ad un massimo di 2400 euro sempre definito sulla base del valore ise socio-sanitario del nucleo familiare del beneficiario e al punteggio conseguito in seguito alla valutazione del grado di non-autosufficienza anche quest'anno aderiamo a sottolineato Antonio Florio responsabile del piano di zona S10 al progetto Home Care Premium ovvero ad una forma di intervento mista con il coinvolgimento diretto sinergico e attivo della famiglia di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto terzo settore a seguito delle difficoltà rappresentate dagli utenti per poter presentare la dichiarazione sostitutiva unica mirata alla determinazione del valore isee la dirigenza del piano sociale di zona ha annunciato la proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande per il progetto Home Care Premium al prossimo 31 di marzo la decisione arriva in seguito anche alla corrispondente decisione dell'Inps di prorogare la scadenza voltiamo pagina si terranno nei giorni 10 11 e 12 marzo le elezioni per il comitato nazionale delegati di Intercassa Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per ingegnere ed architetti liberi professionisti in vista di tale data il gruppo Architetti Vallodidiano ha indetto per mercoledì 25 febbraio alle ore 19.30 un incontro confronto con i candidati alle elezioni di Intercassa per la categoria Architetti e che in caso di vittoria resteranno in carica per il quinquennio 2015-2020 l'incontro è in programma per la sede della società operaia Torquato Tasso a Sala Consilina hanno già assicurato la loro presenza sottolinea il presidente del GAVO Maurizio Cocilova i candidati Luca Coraggio e Lucido Di Gregorio ma l'intervento è aperto a tutti coloro che vogliono illustrare le ragioni della propria candidatura ospichiamo la più larga partecipazione possibile da parte dei colleghi di tutto il Vallo di Diano e andiamo avanti ieri pomeriggio presso l'auditorium del Museo Mida 1 della Fondazione Mida a Pertosa si è tenuta la conferenza stampa dedicata alla selezione del casting per lo spettacolo Cave of Spirits ideato da Grieco Brothers Di Massimo e Marco Griego per la regia di Filippo Marmo e prodotto dalla Fondazione Mida domenica 1 marzo alle ore 10 attori e cantanti di tutto il territorio potranno presentarsi presso il Museo Mida 01 per partecipare alla selezione domenica 1 marzo alle ore 10 un'importante opportunità per gli attori e cantanti del territorio presso l'auditorium del Museo Mida 1 della Fondazione Mida a Pertosa si terrà la selezione del casting per lo spettacolo ideato da Grieco Brothers di Massimo e Marco Grieco prodotto dalla Fondazione Mida per la regia di Filippo Marmo lo spettacolo prevede la realizzazione di un musical dal titolo Cave of Spirits all'interno delle grotte di Pertosa Oletta con grandi effetti scenici ed importante impatto promozionale ieri sera la conferenza stampa di presentazione del progetto che mira non soltanto a valorizzare il sito speleologico ma anche di cercare di offrire un'opportunità e maggiore visibilità ai talenti delle aree del Vallo di Diano e della Valle del Tanagro per gli artisti del territorio che saranno scelti per la realizzazione di questo musical inoltre saranno anche altre le possibilità e le opportunità che potrebbero aprirsi per il futuro le figure che nel corso della realizzazione dello spettacolo si saranno maggiormente distinte potrebbero anche avere l'opportunità di essere contattati per futuri lavori prodotti da Greco Brothers Massimo e Marco Greco sono pronti ad investire in questo territorio per cercare di valorizzare le bellezze offrendo inoltre grazie alla collaborazione stretta con la Fondazione Mida importanti opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo a chi si distingue particolarmente nella realizzazione del casting oltre alla remunerazione riconosciuta per il lavoro svolto nella realizzazione del musical Cave of Spirits come detto potrebbero in futuro essere contattati per la realizzazione di ulteriori lavori teatrali ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri a Pertosa noi quello che siamo stati chiamati a fare è dare un po' di vita a un progetto differente che si svilupperà all'interno delle grotte diciamo che a noi piace esplorare esplorare nuove nuove zone dello spettacolo che possano coniugare spettacolo cultura e divertimento lo spettacolo è uno spettacolo che si sviluppa all'interno del cammino delle grotte è un tentativo di portare il mondo che noi normalmente esploriamo che è quello del musical lavoriamo in quel mondo abbiamo realizzato Odissea Roma Caputmundi altri musical però sempre nell'ambito sostanzialmente teatrale in questo caso il teatro diventano le grotte all'interno delle grotte c'è un cammino che riporta il visitatore indietro nel tempo fino a raggiungere quelli che erano i momenti in cui in queste grotte esistevano le pallafitte c'erano dei gruppi appunto di antichi popoli che le abitavano diciamo che lo spettacolo immodestamente è all'altezza della zona e non vediamo perché non doveva essere proposto alle persone del luogo altrimenti qua continuiamo a parlare di sviluppo sostenibile eccetera ma poi non facciamo niente a me sembrerebbe totalmente assurdo incito fortissimamente tutti i ragazzi a venire al casting a iscriversi sul sito www.griecobrothers.com e iscriversi a questo casting che è un casting che valuterà puramente e unicamente le loro capacità la scelta di cercare di sviluppare il territorio è semplicemente perché siamo convinti che qui ci siano tanti talenti la cosa importante è che tre anni fa quando io sono tornato tu sai che io sono originario nel vallo mi sono messo conto che non spesso non dico che non ci si conosce ma c'è poca rete allora quando è venuta l'idea di fare uno spettacolo nelle grotte io ho detto ma sfruttiamo i locali sfruttiamo se la grotta è una risorsa del territorio facciamo sì che da oggi in poi le persone che lavorino a questo a questo spettacolo siano del territorio siamo in mano dei professionisti io mi occuperò della regia e quindi inizierà questo viaggio che secondo me farà parlare non solo in Italia ma anche fuori perché veramente è unico nel suo genere sì perché la grande scommessa è proprio questa la risorsa umana di questo territorio che va valorizzata va sostenuta e noi come Fondazione Mida che anni fa facevamo la scommessa dello spelo teatro oggi tra luce e ombre vogliamo riprendere la sfida con una nuova con una nuova formula abbiamo trovato dei grandi autori i fratelli Grieco Brotest che hanno secondo me messo in campo uno spettacolo di livello internazionale possiamo riassumere questo processo in tre parole chiave destagionalizzazione territorio e giovani quello che ci ha dato lo spero teatro in passato nelle grotte tutto ciò che di buono ci ha dato l'abbiamo preso cerchiamo di valorizzarlo ulteriormente cercando di puntare al massimo su quello che è un aspetto scenografico spettacolare delle nostre emergenze sperologiche a questo si aggiunge l'idea di una valorizzazione delle risorse umane a Polla lunedì 23 alle 16.30 la presentazione del libro di Vittorio Di Ruocco l'albero dei miracoli l'evento è in programma presso la biblioteca comunale un nuovo appuntamento letterario in programma per lunedì 23 febbraio presso la biblioteca comunale di Polla alle ore 16.30 in via Giardini si terrà un incontro introdotto e moderato dal giornalista Giuseppe D'Amico per presentare il libro scritto da Vittorio Di Ruocco dal titolo L'albero dei miracoli che rappresenta un vero e proprio inno all'amore per la propria terra ma anche un messaggero per quelle che sono le principali tematiche sociali il volume racconta la storia di due giovani che sin da ragazzini avevano scoperto di essere legati da un affetto profondo e che poi però riescono a confessarsi vicendevolmente solo nell'età adulta e dopo tanti anni quando si rivedono in una città lontana dal proprio paese partendo dalla storia dei giovani protagonisti il romanzo si arricchisce di trattazione delle diverse tematiche sociali politiche filosofiche artistiche e naturalmente continua a parlare di sentimenti e del ruolo della famiglia nel libro si fa anche riferimento all'ambiente e all'amore per la propria terra l'appuntamento che come detto sarà moderato da Giuseppe D'Amico vedrà la presenza e i saluti di Giussi Citro Manzione presidente dell'Università della Terza Età di Polla che ha organizzato l'evento del sindaco di Polla Rocco Giuliano e del consigliere regionale Donato Pica la relazione sul libro L'albero dei Miracoli sarà affidata a Giuseppe Manzione docente di materie letterarie presso gli istituti superiori Diamo spazio alla regia per qualche istante di pubblicità ci rivediamo tra poco con le altre notizie del nostro telegiornale Rieccoci studio con la seconda parte di Uno News Si concluderà domani sera con lo spettacolo Wewe Sciccheria la segna teatrale Scena Aperta organizzata dall'associazione Ave Grazia Plena con la direzione artistica di Giancarlo Quercio e Maria Grazia Bruzzese che gode del patrocinio del comune di Sant'Arsenio Lo spettacolo inizierà alle 18.15 al Teatro Comunale Amabile di Sant'Arsenio Restando in tema Nuovo appuntamento domani con la rassegna teatrale Teatro a Casa Marone con in scena la compagnia Amici del Teatro di Lauria Dopo lo stop forzato della scorsa settimana dovuto all'improvviso lutto che ha colpito uno dei componenti della compagnia e teatristi casalbonesi di Casalbuono la cui performance sarà recuperata nelle prossime settimane riprende domani domenica 22 febbraio la rassegna teatrale Teatro a Casa Marone che è in corso di svolgimento a Palazzo Marone a Monte San Giacomo la rassegna realizzata grazie all'impegno della locale associazione Terenzio Castella e al comune di Monte San Giacomo che ha programmato questi eventi all'interno del progetto dallo spettacolo teatrale allo spettacolo naturale con i contributi erogati dal GAL Vallo di Diano attraverso il PSR Campania 2007-2013 vedrà domani sera impegnata una nuova compagnia sul palcoscenico con inizio alle ore 19 gli amici del Teatro di Lauria rappresenteranno la PS dal titolo Minchia Signor Tenente di Antonio Grasso lo spettacolo ispirato alla testo della canzone Signor Tenente presentata da Giorgio Faletti al Festival di Sanremo del 94 e classificatasi al secondo posto riesce a far divertire e al tempo stesso a far riflettere sui temi della mafia e della legalità lo scenario che fa da sfondo alle vicende è una piccola stazione dei carabinieri in un paesino della Sicilia la cui ordinaria quotidianità viene scossa da fatti imprevisti lo spettacolo non certo deluderà le attese degli spettatori e sicuramente riuscirà a far trascorrere in modo lieto la serata a tutti i partecipanti la rassegna teatrale Teatro a Casa Marone dopo l'appuntamento di domani proseguirà fino al prossimo 15 marzo e non l'8 come previsto inizialmente quando si terrà la serata conclusiva con la premiazione e i saluti finali Massimo Manzolillo della sezione arbitrale di Sala Consilina è stato disegnato come assistente arbitrale per un importante match della 38esima giornata del campionato di Lega Pro che vedrà sul terreno di gioco il derby L'Aquila-Teramo un nuovo importante incarico arriva per un arbitro della sezione di Sala Consilina Massimo Manzolillo infatti è stato disegnato da Roberto Rossetti per la sfida che vede protagonista le squadre abruzzesi che militano nel girone B di Lega Pro Teramo-L'Aquila una sfida di grande interesse innanzitutto perché vede in campo il Teramo capolista del girone insieme all'Ascoli a 47 punti mentre l'Aquila segue al quinto posto ad appena 10 lunghezze un derby di interesse storico che viene considerato una delle sfide calcistiche più affascinanti da Abruzzo e che dopo 76 anni si ripresenta con la stessa grande importanza con il Teramo che primeggia in classifica e la squadra dell'Aquila a pressare le designazioni arbitrali sono state quindi molto seguite dai supporter delle due squadre anche perché la sfida più attesa di questa 38esima giornata di campionato di Lega Pro considerato anche il giudizio dell'osservatorio delle manifestazioni sportive che giudica il derby abruzzese ad elevato rischio e richiede anche competenze e capacità di giudizio nella direzione della gara da parte della terna arbitrale sarà chiamato quindi ad un compito di grande attenzione e concentrazione Massimo Manzolillo otteggianese d'arbitro della sezione di Sala Consilina per domani domenica 22 febbraio il designatore arbitrale della Lega Pro ha scelto come arbitro Marco Serra di Torino accompagnato in questa attenta prova da Vittorio Emanuele Saia di Palermo e come detto da Massimo Manzolillo di Sala Consilina sarà possibile eseguire la gara all'Aquila Teramo che avrà inizio alle ore 14.30 anche in diretta streaming sul sito www.sporttube.tv Calcio il Valdiano ospita domani il Real Ponte Cagnano con l'obiettivo di ritornare al successo incontro molto impegnativo per il Sassano che giocherà sul campo del Real Agropoli Nel campionato di eccellenza Girone B un solo anticipo al sabato pomeriggio quello del Novi di Angri dove la Nocerina ospita la terza forza del campionato la Scafatese domenica il resto del programma con la capolista Sant'Agnello che riceve il Forza e Coraggio Benevento mentre il Gragnano sarà ospite sul campo della Palmese che sotto la nuova gestione tecnica ha risalito molto bene la classifica e punta a confermare il suo momento positivo gara complicata invece per il Real Vico che sarà di scena sul campo del Sant'Antonio Abate alla ricerca di punti salvezza mentre nel giorno di riposo della Mariglianese occasione per il Valdiano di Mister Turisco per riportarsi al quinto posto con l'assenza per squalifica di Spinelli e con ancora i box Morea causa stiramento l'attacco dei Blaugrana sarà ancora affidato sulle spalle di Raffaele Di Giacomo già autore di undici golli in campionato da scegliere il partner offensivo con tanti under che scalpitano in coda e scontro salvezza tra Eclanese e Massa Lubrense mentre impegni lontani dalle mure amiche per Campagna e Vissariano che saranno ospiti rispettivamente di Sant'Omaso e Faiano nel campionato di promozione Girone D invece prosegue il duello a distanza tra Ebolitana Giffonese e Rocchese che saranno impegnate rispettivamente contro Poseidon Real Stella e Picciola le prime due della classe giocheranno in casa mentre la Rocchese se la dovrà vedere in trasferta contro una squadra che è in piena lotta per un piazzamento ai playoff Temeraria Cilento è gara molto intrigante secondo gli addetti e lavori mentre tra Real Agropoli e Sassano è sfida tra due compagini con diversi obiettivi i cilentani puntano ai playoff vista la grande stagione che stanno facendo mentre la squadra di Patrone Ricciardone si accontenderebbe e si fa per dire di una salvezza tranquilla la giornata propone anche duelli in coda con gli scontri diretti tra Real Aversane e Olympique Salerno Volcere al Bellizzi mentre l'Inter Casali se la vedrà dura sul campo del Calpazio e adesso vediamo il punto sulle gare del fine settimana nei campionati di prima, seconda e terza categoria nel campionato di prima categoria a Gironeggi c'è tanta attesa per lo scontro diretto tra Salerno e Atletico per niente prima e terza a confronto per un match che potrebbe avvantaggiare soltanto l'Audax Salerno impegnato domenica mattina contro la Cerno impegno esterno anche per il centro storico sul campo della Rufoli mentre sulle sfide agevoli almeno sulla carta per Real Palomonte Procoliano e Sporting e Corvino che giocheranno contro Pro Salerno Vignale e Real Taverna nel campionato di prima categoria a Girone H invece si attendono le risposte di Vigor Castellabate e Canalonga dopo i K.O. della scorsa settimana avvisati dunque Gregoriano e Real con Tursi Terme il match di cartello è sicuramente tra Propalinuro e Montesano che cercano la via dei playoff un Montesano che dopo l'ottima prova inamichevole con la Cavese di giovedì concluda con il punteggio di 1-1 si rituffa in campionato con l'obiettivo di avvicinarsi quanto più possibile alla vetta sempre domenica pomeriggio anche la Pollese ha una delicata sfida al Medici arriva il Vesole squadra arcinota per averla affrontata anche lo scorso anno nel campionato di seconda categoria Agidone N riposa la capolista Certosa di Padula quasi certamente il Rofrano attorrà i tre punti a tavolino contro i Licusati e dunque fare i puntati su quello che faranno Nuova San Vito Sapri che ospita il Vibo Villa e Sporting Sala Consilina che giocherà a buon abitacolo infine nel campionato di terza categoria Agidone di provincia di Salerno si disputa l'ultima giornata del girone d'andata la capolista Santa Maria delle Grazie farà visita al Colliano Futura mentre Ursentide Sicignano dirette inseguitrici giocheranno sempre in trasferta sul campo di Atletico Palomonte e Aulettese Collo Sport termina l'appuntamento serale di Uno News per ulteriori notizie e approfondimenti potete consultare il nostro sito internet all'indirizzo www.unotvweb.it con questo è tutto non mi resta che augurarvi buon proseguimento di serata all'indirizzo all'indirizzo